Giants e Misfits Gaming, hai parlato di giungla Sarengo ed è proprio la giungla, è proprio in questo ruolo su cui si assesta il focus principale del discorso che abbiamo visto tanti tanti cambiamenti nel meta, non solo i classici Sejuani, Jarvan e Zack, abbiamo visto uno Scarner, abbiamo visto due Olaf nella giornata di ieri che non sono riusciti comunque a portare a segno delle vittorie, un obiettivo e Olaf lo vediamo bannato proprio ora in entrambi i casi sono partiti 3-0, 5-0 eppure in entrambi i casi non sono riusciti a finire al lavoro Olaf sembra essere ancora un'incognita ma sono così spaventate le squadre europee perché immagino che in pratica nelle partite di allenamento abbia avuto estremo successo che non lo vogliono vedere e quindi vanno a bannarlo cosa rimane? Altri giungla bannati come Punto Scarner, un flex alla Camille, abbiamo ancora gare a disposizione, Zaya viene bannata Oh, allora questi due jungler molto importanti, Olaf e Scarner, proprio la capacità di correre letteralmente in faccia agli avversari per cercare di andare a prendere il proprio obiettivo, il proprio focus all'interno della compagina avversaria ultimo bann dei Misfits, va a ricadere sul colosso Demasiano, stiamo ovviamente parlando di Galio dall'altra parte i Giants optano per un over, ovviamente una mezza drollata su di Amumu vediamo che andranno a selezionare effettivamente Raid, Raid rimane comunque molto molto in meta nella patch 8.4 anche comunque Giova moltissimo dei cambiamenti negli oggetti di potere magico e quindi viene selezionato il mago delle rune nella corsia centrale, vediamo come risponderanno i Misfits vediamo, hanno tutta la possibilità di andare a prendere davvero tanti personaggi importanti tra i jungler controlliamo subito la presenza sia di Zac che di Sejuani, che sono due pick importantissimi c'è ancora Kazix e la possibilità di andare a prendere un Rakan sicuramente ridotta vista l'assenza di Xayah però non è assente vediamo Sion, Sion rimane comunque un buon pick nella corsia superiore e in generale sappiamo che nella patch 8.5 è stato fixato quel bug che letteralmente faceva andare l'hitbox di Sion leggermente più grosso del normale benissimo, ora nella 8.5 non c'è più ma giocando ancora nella patch 8.4 rimane ancora più frustrante in fase di corsia vediamo i Giants che vorranno selezionare dall'altra parte vediamo un Jarvan qui, ok? Jarvan che presumibilmente verrà piazzato nella giungla non lo vediamo ormai nella corsia superiore da tanto tanto tempo Jarvan come mai Jarvan? Ripeto ci sono sia Sejuani che Zac aperti ora Zac sappiamo che può essere hit or miss più che altro non c'è nemmeno Galio non c'è nemmeno Galio che è possibile andare a selezionare Galio si energizza fin troppo bene con Jarvan già selezionato Ryze tra l'altro per quanto riguarda i Giants nemmeno poterlo andare a posizionare in una corsia superiore non voluta ovviamente parlando del colosso Demasiano vanno a prendere Katelyn giustamente qual è la risposta migliore a Katelyn? Zac, Zac, sempre Zac perché? Perché può raggiungerla perché può raggiungerla Katelyn si fa forte della sua distanza dell'incapacità degli avversari di arrivare addosso a lei chi è meglio di Zac con la sua catapulta elastica? inoltre ricordiamo che Katelyn è stata l'artefice di due vittorie molto 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 semplici nella giornata di ieri nel momento in cui riescono a mettere a posto le sue condizioni di vittoria davvero riesce a creare una situazione per il nemico difficile da affrontare ora, abbiamo Tristana che ovviamente nell'early game a meno che non venga accompagnata da un supporto articolare ha problemi ma il pick di Jarvan dovrebbe aiutare Katelyn a sopravvivere a un eventuale ingaggio da parte di Sion grazie al fatto che il cataclisma va a bloccare appunto Sion Sion che abbiamo visto anche rovinato da un pick per esempio di Anivia Anivia che ricordiamo è stata bannata proprio dai Giants ah peccato peccato vanno dunque ad autotogliersi Giants un possibile counter per un pick della comp avversaria manca un ultimo ban proprio per quanto riguarda i giganti, i titani vanno a togliere Tamcatch Tamcatch è uno dei campioni migliori da giocare assieme ad una Tristana così come Brom comunque tanto tankosità e tanta protezione per il proprio carry e abbiamo il pick di Brom avendo una Tristana già a disposizione dall'altra parte un ride c'è sempre la possibilità di andare a prendere quello che è un Corki nella corsia centrale eventualmente l'altra possibilità è quella di un Azir Azir che non è stato piccato e non è stato bannato ma avendo un ride dall'altra parte per i Giants è sicuramente una cosa importante guardate i Giants cosa vanno a prendere potrebbero andare a prendere l'eco che Jizug ieri ci ha mostrato essere davvero davvero efficace il problema è che c'è già un rise nella corsia centrale mi aspetto cioè quell'eco comunque dovrebbe andare top e sembrerebbe abbastanza strano come scelta strategica da parte dei Giants vanno però uno Shen sicuramente solido che può dare protezione e presenza di mappa globale l'unico pick che non mi convince della comp dei Giants è un po' quel Jarvan è un po' quel Jarvan in quel momento della draft come dicevi ci sono sia Zack che Sejuani open andare a piccare Jarvan che sicuramente è un gradino un pelino più in basso rispetto ai suoi due compagni di ruolo ultimo pick per quanto riguarda i Misfits vanno per un Vladimir nella corsia superiore Vladimir non ha assolutamente problemi nel fronteggiare Shen semplicemente Shen ha rifugio spirituale proprio per ripararsi dagli attacchi base del campione della corsia superiore Vladimir va totalmente di abilità è un mago assoluto va bene va bene nonostante ci sia perdonami mago nella corsia centrale ma il discorso permane anche con Sion no aspetta davvero mi metto Sion Miller? no 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 il discorso perdonami permane anche con Sion no no Sion in mid? lo stanno giocando in solo chiuma stanno portando Sion alle ACS in mid no aspetta 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 va piano va piano va piano sì Sion in mid perché in solo chiuma lo stanno giocando guardalo in solo chiuma stanno giocando Sion mid eee ed eccolo qua ok il discorso permane in entrambi i casi comunque Sion è uno di quei campioni che in caso sarebbe andato nella corsia superiore comunque fa molti danni proprio dati dalle spell è così oppressivo il lane per questo motivo e invece vediamo un Sion nella corsia centrale va bene ragazzi va bene ok Sion mid Sion mid voglio vedere che tipo di temizzazione andrà voglio vedere che rune master utilizzerà voglio vedere che setup e qua ci divertiamo ragazzi e qua ci divertiamo oh finalmente arriva anche all'interno del competitivo questo possibile pick renditi conto che Sion in questo momento è è talmente forte all'interno del meta che può essere giocato anche in un ruolo differente dal suo quindi arriva un flex oh ragazzi è grossa è grossa questo aneddoto non mi stancherò mai di raccontarlo l'ultima volta che ho giocato Sion mid ero contro Oxbeke e Cyanide ero full AP però non è finita bene partitone partitone per il nostro Sarengo allora ragazzi stiamo entrando qui nell'Olanda degli Evocatori tra Giants e Misfits per questa partita e allora per decidere la classifica finale di questo Spring Split 2018 voglio sapere anche la vostra dalla chat hashtag GIA win per la vittoria dei Giants oppure hashtag MSF win per i coniglietti dei Misfits e ti dirò di più c'era Oxbeke che ha chiesto se era una bella ragazza davvero? mi piace c'è ancora il video e tu cos'hai risposto di sì immagino? no non stavo parlando con lui l'ha chiesto a Cyanide no 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 io speravo che tu rispondessi sì per Cyanide dico perché Cyanide è una bella ragazza no anche se io ero una bella ragazza sei molto trolloso Starengo oggi passiamo alla partita ragazzi passiamo alla partita allora cometa per quanto riguarda Sencax e secondo ramo abbiamo quello della determinazione quindi tank probabilmente andrà vedremo se andrà a itemizzare come primo oggetto almeno un oggetto offensivo per andare a ridurre ancora di più le chance di risposta da parte di Betsy nelle fasi iniziali della partita dicevamo come nella corsia superiore cometa Sion venga spesso utilizzato contro personaggi privi di sustain per andare ad abusare letteralmente della nas della cometa bene Sion nella corsia centrale fa la stessa cosa essendo personaggi ancora più fragili nella corsia centrale Ryze non ha sustain questi andranno a subire ancora di più e infatti come notate non è andato a prendere la pozione di caricabile Betsy no è andato a prendere tre pozioni esatto esatto la pozione della corruzione aiuta tantissimo il lavoro di Sion dall'altra parte proprio perché vai a massimizzare i danni che può effettuare questo campione anche ovviamente in corsia centrale guardate la cosa importante quella pozione della corruzione non serve solo per sustain in fase di corsia ma anche per massimizzare i danni durante i trade andatela sempre ad attivare prima di andare a fare un trade con il diretto avversario ok vediamo smaterializzatore per quanto riguarda Alfari comunque andare ad eliminare più facilmente le ondate per un Vladimir fa sempre comodo anche in fasi finali di partita mentre sempre smaterializzatore sia per Ryze lo vediamo molto spesso ma semplicemente per il motivo per quale motivo Ryze vuole andare a prendere il libro degli incattesimi e come secondo ramo praticamente non ha scelta non ha scelta letteralmente o va a prendere le scarpette cosa che ha fatto Bezzi comunque in questa partita per quanto riguarda appunto la seconda riga del ramo dell'ispirazione e come terza riga o si prende il mercato del futuro o lo smaterializzatore a quel punto la scelta è quasi indicata mercato del futuro si è così capitalista come cosa mercato del futuro detto questo andiamo a vedere che ci sono già i biscotti ovviamente nelle mani di Ansame e Mikix necessari per giocare contro Kate in che anche lei parte di scudo di Doran e biscotti per evitare l'eventuale engage da parte di Brom e Tristan e eventualmente recuperare appunto HP nel caso ciò accadesse vediamo il gioco si sposta in corso centrale vuole immediatamente cercare un possibile gank su di Senkax vede che indietreggia abbastanza il mid laner dei Misfits decide di ritornare indietro pure lui in questo caso si sposta verso la giungla di Maxlor che lo vede attraverso il lume Black and Drag utilizzato Maxlor immediatamente contro ingaggio metà vita ne recupera un po' grazie al suo blob ma stanno arrivando anche Mikix di Ansame nella zona il salto di Ansame rischia tantissimo tempo qui ci può essere il primo Sanzo un ultimo attacco base la bomba che esplode ma non basta utilizza il bulbo esplosivo cercherà un possibile suicidio addirittura il flash dall'altra parte del muro e Tente richiama base aspetta aspetta sta arrivando Maxlor e Maxlor vediamo se lo prende lo rallenta e lo tira no fa addirittura bloccare la passiva ma va a morire per forza con il buff della robobestia che è preso da Maxlor e qui Maxlor riesce ad ottenere così un primo sangue il gioco ci ha provato una giocata aggressiva perché aveva la corsia inferiore e pushata ma il tempo comunque di reazione da parte di Stilbeck e Targamas non è stato sufficiente c'era anche dall'altra parte il Seon Mid di Sencax a dare manforte ma la cosa fondamentale è che ha mancato la sua combinazione iniziale questo ovviamente va a favorire Zack Zack come TPS sostenuto fa molto ma molto più danno rispetto a un Jarvan che ha solo l'ingaggio appunto di combinazione di flag and drag quindi di standard più lancia e poi il suo autoattacco potenziato dalla cadenza marziale una volta fatti questi Jarvan non ha più nulla a disposizione ancora più importante dall'altra parte quel lume piazzato in precedenza da Max lo rivediamo guarda quel lume anche se full vita e Max ha una mezza vita qua il gioco fa l'errore di mancare la combinazione una volta fatto questo Maxlore ha tutto quello che ha a disposizione Zack nel momento in cui è bassa vita non ha problemi se riesce a rimanere abbastanza HP ovviamente sopra lo zero per riuscire a raccogliere i suoi blobbettini e cos'è quello che fa? il gioco ci prova cerca anche un bel escape l'unico posto però dove si ritrova è ovviamente sotto la torre remiche e quando lo vai a trovare Maxlore lo prende ci prova si gira ma l'ultimo l'ultima esplosione diciamo da parte di Maxlore insieme alla rovestria crevisi se lo porta a casa assolutamente ora si sposta in corse centrale magari per fare una possibile visita a Betz dato che c'è anche gioco nella zona pronto a ingaggiare in questo momento catapulto dell'Africa viene utilizzata ha bloccato il gioco in un primo momento ancora lo sbatte letteralmente contro il compagno di squadra trova solo un rallentamento Sencax rallentamento che non basterà per trovare un'uccisione quindi il tutto si resetta e si conclude con un nulla di fatto flash utilizzato da parte di Sencax flash non utilizzato invece da parte di Betz questa è una differenza importantissima perché nonostante il recall che Betz adesso andrà a fare vorrà dire che fino ai prossimi minuti fino al prossimo gank appunto da parte di Maxlore lui dovrebbe comunque riuscire a scapparsela ebbene quindi tante azioni da parte dei jungler fin dai primi minuti di partita siamo al minuto 6 c'è già la prima uccisione nelle mani di Maxlore ovviamente ma protagonisti anche nella corsia centrale vediamo i numeri un pochino di ruin del top laner dei Giants interessante comunque il primo posto per quanto riguarda kill ed assist al minuto 15 1.1 in generale quindi solitamente protagonista della sua squadra e anche i gold di vantaggio proprio al minuto 15 al terzo posto arriva l'hitswap questa volta neanche troppo late siamo solo a 6 minuti ma ancora una volta Caitlyn fa semplicemente troppo danno dopo il primo recall avrà probabilmente la MC spada still back e quindi andrà a testare in maniera troppo pesante sulle teste di Ansame Mix e quindi evitano completamente il problema andando a turnicare nella corsia superiore buongiorno eccoli qua Ansame Mix vengono visti in questo momento da un lume ovviamente ruin è già abbastanza indietro per poter evitare una possibile situazione pericolosa ricordiamo che Tristana è stata cambiata nella patch 8.4 un piccolissimo nerf per quanto riguarda la ricarica sulla sua palla di cannone sulla sua suprema sono in vantaggio qua nella corsia superiore sono in tre stanno pestando hanno Tristana dall'altra parte e non possono dipendere non possono perdere Giants e qui potrebbero riuscire a prendere la torre prima dei loro avversari andando a ruminare invece la corsia appunto di ruin prima torre guadagnata dai Misfits con un semplice 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 squad ottimazione ottima rotazione da parte dei Misfits che si vanno a conquistare un vantaggio non solo di oro ma anche strutturale anche un vantaggio di mappa e strategico che quindi si va a testare nelle mani dei coniglietti stavo parlando di Tristana la problematica di questo campione in generale è che nonostante il suo range vada a crescere con il tempo con il lungo andare della partita già di base a livello 1 a 550 in realtà non è così poco per un campione come Tristana che dovrebbe puntare per lo più sulle fasi finali di partita o meglio sul mid game però qui arriva l'ingaccio proprio su di quest'ultimo bloccato Ansama il cataclisma che nemmeno serve perché l'uccisione va nelle mani di gioco ruin stupendo stupendo un'opera d'arte aspetta fino all'ultimo secondo il momento è quello in cui arriva gioco e Ansama nonostante il flash nonostante la guarigione si fa si fa applicare la provocazione ma sotto la torre torre che va a tirare ben due attacchi su Ansama e porta a casa una kill facile facile ancora una volta punendo Ansama e guadagnando davvero tanto ha perso un paio di gold da qualche minion che è venuto distrutto dalla torre ma va bene così per quello che ha guadagnato ma quindi ora la situazione è pari sia sotto il punto di vista delle strutture che dell'oro nonostante la prima torre sia andata nelle mani dei misfits comunque stanno uno a uno con letteralmente 14.300 d'oro per entrambe le squadre sia per Giants che per i misfits il messaggero della landa arriverà all'interno della mappa della landa degli evocatori tra un minuto mentre il primo dragon dragoceanico dragoceanico che può far parecchio comodo per entrambe le squadre soprattutto a pezzi ancora una volta a ruin che campra Cescuglio sta aspettando solo il momento giusto sta arrivando Targamas anche Steelback nella zona si può trasformare in un 3 contro 2 in questo momento Migix prova a bloccarli sta arrivando anche Max però la cavalleria dei misfits così come Senkak si prova a chiudere le strade dell'add carry dei Giants non riescono costretto comunque ad utilizzare il flash Steelback la suprema da parte di Senkak si è stata utilizzata ma quelle poca roba in confronto al flash di Steelback quello è molto più importante soprattutto visto e considerato che già una torre è già andata e loro vogliono insistere proprio su questo lato della mappa dove la torre non è presente consideriamo anche comunque che l'azione offensiva era iniziata da parte dei Giants poi la risposta è arrivata dai misfits quindi molto tempo perso per quanto riguarda Steelback e Targamas e si rispostano ancora una volta insieme Migix a pushare proprio la corsia superiore ma sta arrivando gioco ok è pronto all'antana di Targamas è un facile mezzo per arrivare dove fa più male ovvero addosso ad un insieme Migix che non hanno né flash né guarigione si risposta Betsy eccolo lì il gioco è sempre in agguato proprio in quella zona della mappa più che altro che non ci sono campi nella zona nord della giungla ecco ritornano ora i Krug solo dei misfits neanche anche volesse perdere un po' di tempo aspettare un gunk magari in una situazione più comoda tra qualche minuto non potrebbe farlo ancora all'interno quel cespuglio sta perdendo davvero tanto tempo gioco in questo momento va a pulire un lume e si ruota insieme al resto della sua squadra vogliono andare mid addirittura 5 drago d'oceano che ancora non è stato fatto da nessuno delle due squadre è molto interessante perché ma queste squadre certo che cercano continuamente il sangue viene bloccato in questo momento dall'altra parte ma è bloccato una seconda volta ha giocato anche la frattura glaciale per chiudere una parte dei Giants che erano andati in supporto proprio del loro giocatore cade anche gioco dall'altra parte peccato peccato per i Giants che si ritrovano con due morti un'altra azione offensiva iniziata proprio da loro ottima ottima risposta dei Misfits in questo caso sorprendente la vittoria dei Giants in questo caso perché nonostante riescano ad isolare Targamas ci mettono davvero tanto tempo per ucciderlo dall'altra parte invece i Giants non hanno o non sembrano avere i danni sufficienti per portare a casa nessuno dei Misfits rivediamo l'azione come si è svolta qua inizia con il gioco che pesce anche Maxor e va bene Maxor salta dentro proprio su Targamas una doppia controllo sul gioco e su di lui gioco ci crede si porta dietro lo Shen mentre Bezzi e Stilbeck guardate non riescono a fare danno entrambi zonati dal Fari che in uno contro due non ci muore neanche anzi è a tre quarti di vita perde solo un terzo degli HP un solo personaggio dei Misfits zona due dei principali portatori di danno dei Giants che se la fanno addosso e scappano via abbiamo notato il potere di Tristan all'interno di questa schermaia semplicemente saltano addosso dopo aver utilizzato il cataclisma gioco e Ruin vanno dritti su di lei arriva anche la provocazione da parte di Ruin che comunque non basta non basta perché la Suprema di Ansama parte li allontana entrambi e si mette a caetare semplicemente aspettando che arrivino i propri compagni di squadra per dare una mano in una situazione che poteva essere scomoda all'uncino di Targamas che non va a segno in questo caso su di Ansama e quindi anche qui si dovranno accontentare niente 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 da fare occhio perché c'è Maxlor nella corsia superiore si arriva anche il gioco nella zona arriva anche il gioco no semplicemente si va a concludere il proprio guardiano di Quarzo lo va a lasciare a Bezzi che bella questa partita divertente si pestano e basta si stanno pestando moltissimo non è vero senza motivo così tanto per ma ci piace ci piace ci piace nella corsia centrale ha già lo standard del comando addirittura come primo getto allora vado a specificare una piccola cosa lo smaterializzatore lo abbiamo visto anche all'interno del PG Nationals molto spesso viene tenuto da parte dei giocatori per andare a rimuovere i minion dello standard del comando risulta un ottimo counter il problema andando a verificare un po' il range delle due cose è che lo smaterializzatore ha 550 di range dalla sua il minion invece potenziato il minion da sedio con il buff del Barone National arriva a 1100 quindi molto spesso ci si può trovare in una situazione dove per andare a eliminare quel minion c'è dai sforzi leggermente troppo ovviamente questo non è un problema se si sta parlando del top laner con lo smaterializzatore esatto nella maggior parte dei casi lo smaterializzatore viene tenuto per queste occasioni proprio da un personaggio della front line il Tassico Chogat è uno dei più gettonati per questo punto di vista eventualmente il Brom sono entrambi i personaggi che si possono tranquillamente permettere di passare qualche secondo sotto il fuoco nemico ovviamente determinato da quello che è la composizione nemica nel caso per esempio ci sia una tallia o una nivia diventa molto più difficile fare una cosa del genere ma in generale è tranquillamente utilizzabile sotto questo punto di vista la cosa interessante che ripeto ci piace davvero tanto sottolineare è il fatto che questo è un bilanciamento fine a se stesso ogni singolo personaggio deve decidere lo utilizzo adesso immediatamente nelle fasi iniziali della partita che mi aiuta che dovrebbe essere il suo ruolo ovvero aiutarmi adesso in questo momento della corsia e per tutti i secondi successivi dandomi quel danno bonus addizionale ogni volta che ogni volta che vado a colpire un minion o me lo tengo per il late game andato a perdere tutti quei bonus che avrei guadagnato nel durante questa è una scelta molto interessante che dimostra appunto quanto possa essere interessante anche un semplice oggetto del genere ora abbiamo visto la potenza di Sion Mid 3 terza volta che va a tirare a urlare un minion addosso a still deck e ha perso metà HP e abbiamo a Caitlyn ed è una Caitlyn quanto è pressante questo campione in questo momento nella patch 8.4 soprattutto è davvero difficile evitare il suo urlo Ruin va a trovare un Maxlor sguarnito all'interno della giungla dei Giants ma semplicemente decide di non ingaggiarlo ma ovvio che non può ingaggiarlo ci sono anche al pari Mikix Anzama che sta busciando una corsia superiore e viene evocato il messaggero dell'animazione di Zack l'ho già vista da qualche parte l'ho già vista da qualche parte forse era di colore un po' più rosa mentre dall'altra parte Betsy lavorone non lo so lavorone riesce a spingere abbastanza ma i Giants perdono tanto tu non l'hai vista? qualcosa che veniva trasformato magari in un cioccolatino in una caramella no? dici? ok mi sa che l'ho già vista qualcuno mi confermerà questa cosa mi sa non lo so comunque andiamo a vedere che questo dragon ancora non è stato toccato proprio a causa del fatto della pressione in mane che sta venendo applicata su entrambe le side lane le corsie laterali in particolare questo permette l'ottenimento della seconda torre nella corsia superiore che va a garantire ulteriori soldi nelle mani dei mistis che si trovano così in vantaggio di 1500 cose il problema è che per andare a prendere lo standard del comando Sencax comunque va a rallentare il suo build pat in generale ma appunto è questo il suo compito è semplicemente quello di non andare a perdere la corsia farmare tranquillamente quindi ottenere resistenze date dalla sua passiva per poi occuparsi con lo standard del comando di fare letteralmente il suo lavoro o meglio di far fare al proprio minion il suo lavoro andiamo nell'elitimizzazione Ruin è andato per una cappa spettrale inizialmente per poi andare per quella fatidica idrotitanica che è davvero fondamentale per il funzionamento di un personaggio come Shen ora dall'altra parte abbiamo già la protocintura e stiamo andando per un Lionry Lionry che oddio qui là rischia un pochino il gioco in questo momento salvato praticamente dalla lanterna di Targamas viene ingaggiato in un secondo momento da Maxwell decide di ributtarsi in mezzo con l'utilizzo del flag and drag ancora la sua è ma a disposizione la va a utilizzare ora per chiudere tutti all'interno delle mure di Massiane li ributta indietro quasi per fuggire Maxlor con il suo let's bounce ma i membri dei Giants sono assatanati cercano addirittura un ingaggio in un secondo momento su di Sencax Lucino che non va a segno di pochissimo e Alfari decide addirittura di utilizzare la sua emo piaga su due tre membri della squadra avversaria ovviamente non basterà per vendicare i compagni di squadra vi ricordate quando prima avevo detto come Stilbeck e Betsy sono stati resi completamente inutili da Alfari in questo caso è stato Alfari ad essere completamente inutile è arrivato tardi da un'angolazione non utile e questo ha lasciato liberi Betsy e Stilbeck di fare quello che volevano portarsi a casa immediatamente Mikix e poi tutto il resto del team nemico o almeno quello che ne rimaneva rivediamo l'azione guardate il gioco guardate Zarga ma se guardate Stilbeck sono pronti Maxlor e lì davanti sta spietando solo l'arrivo del team il team innanzitutto è previsto da Mikix Sencax e Anzama sono 4 contro 3 ingaggiamo a questo punto dice Maxlor arriva Shen teretrasporto dall'altra parte Stilbeck fa una valanga di danni su Mikix Betsy dal lato e insieme a Stilbeck sono liberi di fare quello che vogliono guardate Alphari arriva tira una mezza marea di sangue su Targamas e se ne va bravo Alphari bravo non è fatto assolutamente nulla è stato un 5 contro 4 per loro quando doveva essere un 4 contro 3 invece per i Misfits il posizionamento dei carry dei Giants è stato perfetto in questo team fight Betsy e Stilbeck riescono a trovare la posizione giusta per andare a massimizzare i danni senza rischiare letteralmente nulla esatto la differenza come dicevo è stata fatta proprio dall'intervento di Alphari ovviamente il posizionamento del lume non poteva essere scelto non c'era nessun posto in cui teletrasportarsi dovevano considerare anche l'eventuale arrivo di Shen perché Shen va sempre tenuto in considerazione non bisogna mai sottovalutare la capacità di questo personaggio di andare a cambiare quello che è semplicemente il valore numerico dei personaggi coinvolti in un combattimento Shen si deve sempre trovare come campione distante dall'inizio del combattimento per poi arrivare con una sua suprema con l'unità nelle difficoltà perché grazie a questa strategia si ottengono due cose non solo comunque vai a fornire uno scudo a un compagno di squadra e poi creare quel che si dice l'effetto sorpresa ma anche vai a prendere un vantaggio in una delle side lane quindi vai leggermente a pushare una side lane a metterla anche in una situazione di slow push per poi arrivare all'interno della schermaia e continuare a combattere insieme ai propri compagni di squadra ok andiamo a vedere ancora una volta Ryzen nella corsia superiore della split pushare notiamo che non ha ancora chiuso la sua staffa dell'arcangelo fondamentale per garantirgli un minimo di danno per ora ha solo la maschera dell'avviso che non basta per buttare giù un colosso come Senkax nonostante questo non abbia praticamente resistenza magica se non attraverso gli strumenti di mercurio e lo standardo del comando il resto è tutta armatura vita a zero teletrasporto che viene annullato utilizzato da parte di Senkax no entrambi con teletrasporto si benissimo benissimo a posto semplicemente viene annullato teletrasporto nella corsa centrale da parte dei misfits rischiano un pochino i Giants anche in questa situazione nemmeno troppo semplicemente si fanno indietro e riescono a evitare una possibile condizione pericolosa ma vogliono insistere un pochino su questa torre guarda già quanta vita va a perdere quel pilastro difensivo nella corsa centrale mentre che difficoltà ha Betsy a pulire quel minion quel minion potenziato dallo standardo del comando di Senkax così imparate a split pushare con i personaggi da api gli tocca vedi proprio questo è il problema a Rise sono stati tolti dunque due strumenti di split push uno in questo caso con lo standardo del comando quasi nerfi in diretta a questa sua strategia uno invece di due patch fa con la rimozione della sinergia tra il cronografo in generale la stasi di lascia suprema il portale di reami però finalmente ha chiuso la staffa dell'arcangelo questo gli garantisce davvero davvero tanto bonus ability power grazie al fatto che ha già itemizzato davvero tanto mana grazie alla maschera dell'abisso quindi d'ora in avanti riuscirà effettivamente a fare del danno utile anche ai campioni che si troverà davanti non solo ai minion per pulirli in maniera molto rapida chiusa il pugnale di stati che per una Caitlyn che ha 233 minion e due kill contro una Tristana con 200 minion ed è 0-2 invece che deve ancora chiudere il suo secondo oggetto quindi appena chiuderà il suo terzo oggetto Steelback sarà online per riuscire a permettere al team dei Giants di fare un team fight molto più facile dall'altra parte Alfari ha chiuso la maschera del Lionry scusate per andare a fare del danno contro i tank della squadra nemica e ricordiamo che tutti quanti praticamente hanno difese e HP bonus da parte dei Giants tranne effettivamente Caitlyn il suo obiettivo è comunque rimuovere Caitlyn questo grazie al bonus che Lionry dà ai danni nel momento in cui si è in combattimento e si fa danno al team nemico grazie per esempio anche semplicemente alla pozza di sangue si arriva fino a un 10% di danno bonus ora con la Liandry quando la vai a staccare effettivamente a massimizzare all'interno di una schermaglia che viene applicato anche all'esplosione dell'emopiaga noi tiriamo l'emopiaga facciamo le nostre abilità e questo bonus del Lionry non più i danni percentuali ma il bonus di danni del Lionry va a ripiegarsi sull'emopiaga il drago d'oceano assolutamente utilissimo per lui perché ancora una volta è raid si basa sul mana a disposizione avere più mana significa fare più danno per lui e allo stesso tempo lui non ha sustain integrato nel suo kit quindi aggiungiamo una questione in generale ora il tormento di Liandry fa proprio questi danni sulla vita massima che sono molto più importanti nonostante siano un 1% anziché un 2% è sulla vita massima e non più sulla vita attuale ma l'unico ad avere tanta vita massima in realtà è gioco sì 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 assolutamente però in generale come cambiamento all'oggetto è una cosa che lo riporta sicuramente in auge e vediamo il drago dell'oceano il drago dell'oceano appunto come dicevi preso da parte dei Giants in questo momento e fa molto comodo proprio per fronteggiare il Sion di Senkax esatto a differenza del ui Michix ha bloccato una volta due volte tre volte non si muove più questo supporto ed infatti viene finito da steal back bella azione dei Giants invece brutto bruttino il posizionamento di Michix è già la terza volta da ieri che vediamo un povero Brom esplodere non riuscire minimamente a sopravvivere all'interno di un teamfight questi tiratori sembrano scalare davvero troppo in fretta per permettere a un personaggio come Brom che nella posizione di supporto ha comunque degli strumenti limitati per andare a accattare i soldi e guadagnare statistiche e quindi deve basarsi sullo scudo per andare a sopravvivere non sembra essere sufficiente vanno dunque andrà a prendere in buona parte della torre della cortina superiore si fa forte comunque anzi addirittura si prende l'intera torre la runa chiave la runa chiave perdonami la runa del demolitore sicuramente va ad aiutare questo split push di Shen che ricordiamo è uno dei migliori proprio nel suo rollo non tanto per la velocità di split push ma per i rapidi spostamenti all'interno della mappa dati non solo dal teletrasporto ma anche dalla sua suprema l'uniti nelle difficoltà e allora vediamo che hanno un'ottima fonte di concatenamento di controlli i giants dalla loro abbiamo un trash vediamo un rise vediamo un jarvan e una caitlin che ovviamente non va mai sottovalutata perché andare a piazzare la trappola per yordle sotto un nemico che già è bloccato in un primo momento lo va a bloccare in un secondo momento senza andare a considerare il colpo alla testa come è successo per mi x poco fa sai che si sta andando per una warmog quando avrà questa armatura sarà praticamente al pieno del suo potenziale in quanto avrà tutto avrà resistenza magica ha tanta resistenza fisica avrà 40% di riduzione ricarica e il fatto è che anche se prende danno può stare un paio di secondi fuori dal combattimento e poi ritornare al pieno della sua salute vita 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 allora anche per Stankax in questo caso quel cuore ghiacciato come dicevi fa molto comodo non solo appunto per l'armatura ma anche per la riduzione ricarica utilizzato il colpo da cecchino da parte di Stilbeck su di Ansama semplicemente per quale motivo un po' come lo sbarramento energetico di Ezra il colpo da cecchino di Katerin o nel buon 80% dei casi lo si va ad utilizzare prima di una schermaglia semplicemente perché nel mezzo di una schermaglia non c'è tempo per utilizzarlo non solo avendo così tanta velocità velocità di attacco esatto si risulta in un DPS molto maggiore semplicemente autoattaccare sì assolutamente assolutamente sì dall'altra parte Betzi sta facendo un ottimo lavoro qui sposta un po' gli equilibri difensivi della squadra dei Misfits verso la corsia superiore mentre dall'altra parte i Giants possono cercare ora un ingaggio insieme al loro mid laner Ruin è sempre disponibile ad arrivare nel momento giusto in questo momento infatti viene utilizzato l'Uniti nelle difficoltà prova a bloccarne uno non ci riesce si rischia tutti chiusi nel cataclisma del gioco e allora Steelback può insistere cercherà altri danni altri kill Ruin è assatanato si punta sui alpari doppia uccisione consegnata regalata Steelback Ruin sta facendo una partita eccezionale il gioco non è da meno quattro persone incastrate tutte nel cataclisma una meteora che si schianta sulla testa dei Misfits manco Final Fantasy 7 ragazzi tre dischi guarda che stiamo a parlare cinque persone tutte armate di barone i Giants sono bellissimi oggi sono enormi dopo un early game discutibile da parte loro che abbiamo visto una prima rotazione con la prima proprio torre che va nelle mani dei Misfits guarda che bad team fight guarda come è stato organizzato e notiamo Sion e invece Shen Shen può arrivare con la seduta suprema invece Sion no va a essere preso Mikix ancora una volta lui il focus principale tankano davvero tanto ma qua perfetto flash e cataclisma da parte sua con l'arrivo di Ruin e qua non c'è più niente perché viene bloccato Vladimir proprio nel momento in cui vuole utilizzare le sue abilità la trasfusione potenziata appena esce fuori c'è ancora Ruin con la provocazione che non è stata utilizzata fino a quell'ultimo momento i Giants sono una macchina da guerra zero danni per il Sencax che non c'era non c'era letteralmente i Misfits bastano una delle loro condizioni di vittoria su di Sencax il ruolo di questo giocatore è quello semplicemente di starsene in disparte e lo si vede anche semplicemente dal primo oggetto che si è andato a costruire uno standardo del comando non vogliono fightare in 5 contro 5 i Misfits vogliono sfruttare Sencax ma non possono farlo guarda Betsy guarda Betsy in questo momento è vero si fa forte del buff del barone e questo è molto importante ma la partita è nelle mani dei Giants il minion da sedio potenziato non solo dalla mano del barone ma anche ora dallo standardo del comando barone standardo del comando drago d'oceano vantaggio di gold di 7000 unità a 27 minuti possono fare quello che vogliono bravo Targamas qui Targamas ha fatto un lavorone semplicemente invece di gettare il suo controllo su di Maxlor già bloccato decide di andare a togliere Mikix dalla zona in modo da evitare la possibile protezione del compagno di squadra del jungler dei Misfits e stanno andando a prendersi altri due Senna di comando un Sion sta arrivando ma nella corsia inferiore dove è Raiz cosa succede? è morto? adesso in questa situazione sono praticamente 1-4-4 portale di Reami lo prende Bezzi si salva ma no Alphari trova l'uccisione solo in un secondo momento dopo il traghetto preso da Bezzi il suo portale di Reami mentre i Giants vogliono per un attimo insistere in corsia inferiore quel minion da sedio non fa abbastanza danni essendo che lo standardo del comando non è piazzato su di lui e ragazzi per tutti quelli che si sono connessi adesso vi ricordo quanto sia importante questa partita guardate lo score 6-9-7-8 i Misfits sono sopra a quello che è il gruppo di fine il gruppo di coda delle LCS europee ci sono 6 team ci sono 6 team no 5 team al pari merito al sesto posto poi i Misfits subito dopo esatto quindi se i Giants vanno a vincere questa si portano a pari merito con i Misfits e sicuramente in una zona franca come possiamo definirla quindi perdere questa partita per i Misfits doveva essere un assoluto no e invece i Giants li stanno abbattendo pezzo dopo pezzo ottima partita dei Giants che riescono letteralmente a counterare le condizioni non tanto le condizioni di vittoria ma lo stile di gioco che volevano applicare i Misfits proprio girando intorno a questo Sion nella corsa centrale che viene letteralmente neutralizzato esatto non solo lui sono riusciti a gestire in maniera perfetta Sion i Misfits non hanno dato rispetto a Sion e a Sion scusate a Shen non hanno dato alcun rispetto a Shen Ruin ha fatto davvero la partita in almeno tre occasioni il Fight al Drago è stato però il più importante andare a ignorare completamente il vantaggio numerico che uno Shen può portare significa davvero davvero perdere automaticamente la partita sembra quasi questa è una delle cose che vediamo molto spesso avendo visto avendo guardato Competitive League of Legends ormai da anni Shen ha sempre questi periodi in cui viene bannato viene rimosso dal gioco perché non è importante non è rilevante e la gente si dimentica letteralmente come giocare contro di lui dovete portare rispetto a Shen a meno che non gli blocchiate la sua suprema lui arriva e il vantaggio che riesce a portare è tale da permettere di vincere Team Fight che altrimenti andrebbero sicuramente persi è un campione davvero completo non ha solo presenza di mappa la sua provocazione può essere utilizzata sia come strumento offensivo che come strumento difensivo capacità di riparare la propria squadra anche dai danni degli avversari grazie al rifugio spirituale e guarda un po' Bezzi che cosa sta andando a prendere dalla sua una sfera dell'oblio che si evolverà in un Morello Nomicon occhio qual è stato il cambiamento al Morello Nomicon molto importante ora infligge sempre ferita grave e contro una squadra che dalla sua non ha solo uno Zack ma anche un Vladimir è molto importante andare a concludere questo oggetto me l'hai capito cosa devi fare Dobbsa mi devi portare rispetto devo portare rispetto rispetto esatto andiamo a vedere come concluderanno questa partita se ci riusciranno i ragazzi dei Giants nella corse centrale ancora una volta hanno una Caitlyn Caitlyn 5-0-1 360 minion a quelli che sono 31 minuti ragazzi ma tu che sei sigiliano arancina o arancino dalla chat hashtag arancino hashtag arancina e questo lo voglio sapere mentre i Giants continuano con questo vantaggio andando a prendere anche l'inibitore della corse tra dieci minuti sono rimasti in metà perché si sono ammazzati questa è una guerra civile guarda chi andranno ad uccidere invece i membri dei Giants che ha Demikix nel giro di mezzo secondo e vogliono insistere e certo che vogliono insistere sono in subunità numerica cercano addirittura di ingaggio per chiudere al fare all'interno delle mura demasiane non lasciano libero Senkax nemmeno da zombie nemmeno da morto trovano l'uccisione anche su di lui e possono insistere sono praticamente in 5 contro 3 e quando ha 32 minuti questa è l'unica volta che Steelbeck rischia la vita e riesce comunque a sopravvivere fanno a fine dagli ultimi membri dei Misfits Ansama ci prova salta via ma viene preso ancora da Ruin Ruin vuole fantasy point cerca un'altra kill e la trova la trovano i Giants 12-4 il parziale delle uccisioni una partita enorme da parte di questi giocatori che riescono con un'altra kill ancora ancora insistono ma quanto sangue volete ragazzi manca il Nexus andatevi a prendere questo posto meritatissimo all'interno della classifica il training autosciolo di Bezzi è funzionato comunque ti devo dire la verità essendo napoletano per me è a valla iris a valla iris ma che brutto è orribile e così viene chiamata che ti devo dire